Formigine sigla il patto di gemellaggio con la città irlandese di Kilkenny, dopo la francese Somur è il secondo comune gemellato con Formigine. La firma è avvenuta nel corso di un consiglio comunale straordinario, alla presenza del sindaco Maria Costi e del sindaco di Kilkenny Michael Doyle. Il consiglio è stato preceduto da una cerimonia ufficiale nel cortile del castello, con esecuzione degli inni nazionali e l'alza bandiera. L'intero evento, inserito nell'ambito dell'Europa Festival di Formigine, è stato particolarmente sentito e partecipato dalla cittadinanza. È una fantastica occasione, sono molto felice di essere qui oggi con Maria, in questo splendido castello e insieme alla comunità di Formigine. Mi auguro che il nostro gemellaggio ci permetta di potenziare e condividere le nostre rispettive culture, rinforzando il turismo e l'industria. Crescendo insieme in un cammino comune. Siamo solo all'inizio e la nostra amicizia non può che crescere. Lavoreremo perché questo cammino che oggi inizia possa portare relazioni, in particolare per i giovani, le associazioni culturali e turistiche. Già abbiamo un progetto comune di un'associazione di volontariato per poter mandare un giovane di Formigine a Kilkenny, ma di qua è solo l'inizio e il turismo ci aiuterà e aiuterà entrambi i paesi. È un cammino, oggi cominceremo e scopriremo la targa appunto con Sonmure e Kilkenny. Pensiamo che l'Europa sia l'Europa quella che vogliamo, quella delle relazioni tra le persone e in particolare tra i cittadini. Noi amiamo il fatto che i cittadini possano avere un'origine comune perché l'Europa ha un'origine comune, un'anima comune che dobbiamo riscoprire. Questo è il lavoro mio e di Michael come sindaci dei rispettivi comuni. Al termine della giornata è stato anche presentato l'annullo filatelico del gemellaggio.